Buongiorno, benvenuti a questa diretta della Zuppa di Poro del 29 agosto, vediamo cosa c'è sui giornali di oggi. Il tema fondamentale della giornata oggi è che ieri Salvini si è incontrato alla prefettura di Milano con Orban, il presidente ungherese e i commenti sono più sull'opportunità di aver incontrato questo illiberale che l'economia europea, chi lo sa. Quello che sappiamo sono i commenti italiani perché abbiamo scoperto che tutti quanti i grandi commentatori italiani sono dei liberali, ma dei liberali come gente che ha letto Hayek, Popper, che non sono liberali. La storia più divertente di oggi forse è il commento più divertente di oggi è quello di Sabino Cassese che in questa parte della sua vita è molto molto ciardiero sui giornali, soprattutto su Corriere della Sera. Dice Orban è un illiberale, pensate un po' voi, lui ha ridisegnato i collegi elettorali, mi sembra che questo l'abbia fatto anche Renzi, ma non solo Renzi, esiste proprio una teoria americana, Gerry Mandoring o come cavolo si chiama, per cui tutti quanti i politici cercano di disegnare i collegi al loro vantaggio. Quindi è tremendo Orban perché ha ridisegnato i collegi elettorali. E poi pensate un po' voi, Orban ha fatto una nuova legge elettorale, noi in Italia sono anni che facciamo leggi elettorali perché Berlusconi, Prodi, D'Alema, Renzi, fra un po' il Movimento 5 Stelle, anzi a che fine è fatta la riforma della legge elettorale, non se ne parla più. Tutti quanti i governi fanno le leggi elettorali per vincere, solo che Orban ha rifatto la legge elettorale e ha pure vinto. Poi andiamo avanti, oltre ad aver fatto questa cosa così illiberale di fare la legge elettorale, l'ha fatta Renzi poco tempo fa, pensate un po' voi, il Washington Post sta dicendo che l'Ungheria è un paese tremendo e chi se ne frega è il Washington Post, è anche forse Diaboli che dice che è orrendo l'Ungheria, probabilmente lo è, non lo so, questi 10 milioni di persone stanno forse nel paese più liberale del mondo e poi ne parleremo sediamente, ma la cosa che mi colpisce di più è che Cassese sul Corriere della Sera ci spiega che Orban è il liberale perché col 45% dei voti ha la maggioranza di due terzi in Parlamento. Porca puttana! Questo si chiama premio di maggioranza, va bene? Noi, grazie a non avere il premio di maggioranza e averlo abolito con la Corte Costituzionale e con la passata legge, non abbiamo maggioranze. Non mi sembra che sia il liberale avere un premio di maggioranza, non mi sembra che Macron abbia subito un processo da parte del professore Cassese per cui lui al primo turno col 20% dei voti è diventato il padrone della Francia, 20% dei voti, non mi sembra che ci sia stato questo processo, ma poi c'è un altro elemento, scusatemi, il 45% ha preso Orban? No, non è vero, basta andare due pagine prima sul Corriere della Sera e vediamo i voti di Orban che sono il 49,5%, lo scrive Fubini sul Corriere della Sera, 49,5%, il professore dice che è il liberale che utilizza dei numeri che lo stesso suo giornale contesta, io non so quali siano veri, 49,5% che dice il Corriere della Sera pagina 3 o sono il 45% che dice Cassese? Ma vado avanti, è ovvio, è del tutto ovvio, anche perché lo ammette lui stesso che Orban non ha nulla a che vedere con la cultura liberale, è del tutto evidente, non si discute, ma per discutere questo non c'è bisogno di truccare, professore Cassese, i numeri, non c'è bisogno di dire che un premio di maggioranza è il liberale, che non è vero che è il liberale posto che quando lo facevano i suoi protetti invece era tutto liberale, questo è disgustoso per la gente, è disgustoso per la gente pensare che Orban e Salvini siano due i liberali e invece le associazioni dell'AMPI, dei vecchi rimasti ancora alla contrapposizione fascisti e antifascisti, o se sono giovani sono ancora peggio, la CGL, associazioni imbarazzanti, la Boldrini che manifestavano là sotto, quelli sono liberali, professore Cassese? Quella è l'Italia liberale? Cioè noi vogliamo quell'Italia? Cioè se tu prendi Salvini e Orban che non sono liberali e metti dall'altra parte Boldrini, Lampi, l'Arci, la CGL, quelli invece è il mondo liberale che controbatte contro il mondo illiberale, è evidente che sono gli utili idioti usati da Cassese e da tutti i grandi intellettuali per dire che quello è il miracolo a Milano, titolo di repubblica, cioè il fatto che da Boldrini con l'Arci e con Lampi che manifestano anche se c'è una bombola di gas qui fuori posto, beh insomma quella è il miracolo di Milano, guardate che Milano 15.000 persone per strada contro Salvini e Orban oppure contro Berlusconi oppure contro Segni oppure contro chi cavolo vi pare, cioè contro conservatori, l'ha sempre avuta, non vi preoccupate, è sempre così sarà, il proprietario del Corriere della Sera si chiamava Crespi, la miliardaria che andava a finanziare il giornale di Ottone e chiamava i Feltrinelli e i Brigatisti, chiaro? Vabbè questa è la Milano che ci raccontano, con Maiorino, ma comunque va benissimo, la nuova resistenza, questa è una nuova resistenza, poi dopo ti stupisci che sul Corriere della sera, leggetevelo, per la terza volta nel giro di un mese si intervista Toscani, seconda volta nel giro di un mese, non voglio fare come il Corriere che sbatte i numeri a caso, allora Toscani l'abbiamo intervistato 20 giorni fa perché ci ha spiegato Toscani che, ah poveraccio lui stava proprio andando su quel ponte che poi è crollato, che c'entra lui con i Benetton, in Italia c'è un grandissimo odio, Toscani ci dice che in Italia c'è un grandissimo odio, bene, nell'intervista di oggi a una settimana di quella precedente sapete che cosa ci dice Toscani? Ci dice riguardo a Salvini, mio padre fece le foto di Piazzale Loreto, che se c'è una cosa disgustosa della storia italiana è Piazzale Loreto, mi fa venire il voltastomaco quelle foto di Piazzale Loreto, quello è l'Italia più schifosa che uno possa immaginare, bene, suo padre era lì che faceva le foto a Piazzale Loreto, complimenti a Toscani, ma il punto fondamentale è, risponde Toscani a precisa domanda, ve la leggo perché non voglio sbagliare, Salvini l'ha mai fotografato, gli chiede il giornalista, a posto che aveva fotografato Di Maio per Forbes una settimana fa, mio padre ha fotografato Mussolini a Piazzale Loreto, spiega Toscani, chissà dove fotograferò io Salvini, so se vi è chiaro, chissà se anche per Salvini ci sarà una Piazzale Loreto, ecco, allora io dico, l'uomo che diceva che c'era tanto odio, che evoca Piazzale Loreto e lo evoca per Salvini e sullo stesso giornale mi parla di movimento illiberale che ci sarebbe, io dico viva Salvini e Orban rispetto ai Toscani, alle Boldrini, all'Arci, all'Ampi, a questi che manifestano per che cosa? Per quello che oggi, secondo me in maniera lucida, ma capisco che è molto difficile da scrivere, dice Cerasa sul foglio, voi direte ma come che cazzo sto dicendo, sei passato dall'essere il salviniano a essere amico del giornale più antisalviniano che ci sia il foglio? Sì, perché oggi Cerasa scrive una cosa molto semplice sul foglio, rifacendosi a quello che ha scritto l'Economist nei giorni scorsi, e cioè che c'è una terza via sull'immigrazione, e cioè quella che passa dalla immigrazione no, chiusura totale, a apertura totale. E dice, ma poi, scrive Cerasa, il problema è che ogni avversario di Salvini e Company che vuole, che non vuole lo stop all'immigrazione, si trasforma immediatamente in un sì all'invasione. Ma il punto è proprio questo, caro Claudio Cerasa e caro Economist, che se gli avversari di Salvini e di Orban sono quelli che abbiamo visto in piazza, è chiaro che lì passi dal sì all'invasione, perché è quello che hanno fatto fino a pochi anni fa, cioè quello che loro ci spiegavano fino a pochi anni fa. È del tutto evidente che questa è la reazione, la mia pensée di questa gente che quando vede, leggetevi oggi Cerasa e l'Economist, è molto condivisibile, però lo devi tirare fuori dalla piazza di Milano, lo devi tirare fuori da quel miracolo italiano, lo devi tirare fuori dall'intervista a Toscani, lo devi tirare fuori dalla saccenza di Cassese che ci spiega che hanno vinto con il 45% invece il 49,5%, che ci spiega che il premio di maggioranza è illiberale. Orban è illiberale, non per il 49,5% che ha preso nel popolo, perché potresti prendere anche l'80% del voto popolare ed essere illiberale. Chiaro, ce l'ha spiegato Tocqueville, non c'era bisogno di Cassese. Ma andiamo avanti. L'altra cosa fantastica è oggi un colonnino di Italia Oggi, un'Italia Oggi che in genere non si legge e invece si sbaglia, perché è sempre delle opposizioni maverick, come viene definito oggi McCain, da morto, era un repubblicano doc, altro che maverick. Dice, è fantastico le critiche che si fanno a Orban, dice Italia Oggi, sul fatto che abbia sottoposto il potere giudiziario a quello politico, che è il grande cavallo di battaglia di Macron. Oggi su tutti i giornali c'è invece un tema riguardo alla durata del governo di Macron perché ha perso il ministro dell'ambiente, chi se ne frega. Ma la vera critica che fa Macron, dice Italia Oggi, è quella ad Orban che dice che ha sottoposto il potere giudiziario al potere politico. Italia Oggi ricorda a Macron e a soprattutto quelli che usano questa critica in maniera poco ragionata che in Francia i procuratori vengono nominati dal governo. Quindi in Francia non è stata cambiata la legge, è sempre stata così nella Quinta Repubblica e cioè la legge prevede che i procuratori siano sottoposti al controllo dell'esecutivo. Chiaro che ci si scandalizza e che Orban ha fatto una cosa più o meno simile è incredibile. Detto questo, apro la parentesi e chiudo la parentesi, vivere in un paese in cui la libertà di stampa è controllata ed è sottoposta a molti vincoli come l'Ungarie non piacerebbe a nessuno di noi giornalisti e ci sono dei temi fondamentali. Il problema è affidarvi a persone che li trattino nella giusta visione dal mio punto di vista. Di Toscani vi ho parlato, l'altro grande tema è il ponte. Sul ponte c'è un regalo fatto da Piano a Toti, commissario per la ricostruzione, che è quello di un ponte con 43 vele, che sarebbero 43 pali con l'illuminazione che fanno da vela. Non ci sarebbero più le campate, insomma se siete ingegneri, oggi tutti lo sono dopo il crollo del Morandi, andatevi pure a vedere i progetti sui giornali. Il punto fondamentale lo coglie oggi, secondo me, Mattia Feltri sul buongiorno della stampa, dice ragazzi Piano vi ha regalato un ponte, fa assa, sì grazie si risponde, se un grande architetto vi regala un ponte prendetelo, poi dopo si potrà fare, collaborare come lui stesso ha detto con gli ingegneri, con i tecnici, facciamolo, sto cavolo di ponte il prima possibile. Tra l'altro un'altra cosa che dice Piano, piuttosto ragionevole, soprattutto un uomo che come lui è piuttosto lento nell'andare in Parlamento, ma è molto veloce nel fare gli affari suoi, è quello di dire, insomma il ponte bisogna farlo ma non si abbia fretta, ragionevole, io se fossi un genevese un pochino più di fretta ce l'avrei nel fatto, ma non solo un genovese, un portuale, qualcuno che è interessato all'economia di quel posto e non soltanto alla bellezza del ponte, insomma qualche fretta in più, sì Dante avevo parlato di poltroni e sofà di Italia Oggi, figurati se mi sfugge, mi sembra che mi diverte perché poi siccome ne parlo bene in questi ultimi due giorni di Toti tutti quanti gli anti-berlusconiani dicono cazzo ce l'hai proprio l'animo berlusconiano, ma Toti mi sembra la persona più ragionevole in questa grande vicenda perché a ieri ha messo insieme il sindaco e si è portato a casa piano con un progetto di ponte ed è quello che sta cercando di risolvere il problema senza fare tante pippe ideologiche, togli concessione, metti concessione, certo quello si dovrà verificare ma oggi l'urgenza è quello di pagare le famiglie che hanno perso i loro cari, rimettere in ordine la situazione in quel ponte crollante e ridare una casa a coloro che abitavano sotto il ponte e rimettere in sesto la circolazione, poi dopo si andrà a verificare tutto il resto. Castellucci, amministratore delegato di autostrada, detto anche arrogance, prima c'era Profumo, l'amministratore delegato di Unicredito che veniva considerato tale, poi in tutto il mondo si sa che Castellucci e i suoi portavoci sono l'arroganza in persona, cioè quelli che hanno sempre in realtà non fanno un cacchio perché io vorrei fare il gestore di un'autostrada perché poi dopo se c'è un casino, beh non lo so, era stato fatto 60 anni fa, stai lì che aspetti il gestore, nella vita si può fare l'azionista di Terna, l'azionista di Snam, Rete Gas, l'azionista delle autostrade perché sono quei mestieri in cui a differenza dei maglioncini non c'è un mercato, ci vengono le persone, i clienti ce l'hai, devi soltanto gestirli decentemente, ma i clienti ti sono arrivati qua su questa zuppa, i clienti non ci sono, ogni giorno me li devo conquistare. Bene, Castellucci, Arrogance, dopo le prime 10 righe gli avranno spiegato, questa volta magari scusati per quello che è successo, sul ponte, sui morti, 43 persone, lo ha fatto, dopo 20 righe lo ha fatto, ma purtroppo col sapore di una cosa un po' stantia, però dà dei numeri molto interessanti e che ve li dico, intanto a dice subito è stata ridotta la mortalità sull'autostrade, capisco che un tema difficile da mettere nel giorno dopo in cui muoiono 43 persone, forse l'avrei messo con più garbo, ma dice grazie agli asfalti drenanti, ai tutor, la velocità, insomma tutto merito suo, sarebbero morte 75% o meno di persone rispetto chissà a quali anni. Più interessanti invece i dati finanziari, perché gli investimenti pubblici sulle autostrade, con gli investimenti delle vecchie autostrade di manutenzione erano 120 milioni anni in cui erano pubbliche, oggi sono passate a 750, non risponde sul fatto che siano meno di quanto previsto, ma comunque sono aumentati. E poi l'altra cosa che dice è che la strada pubblica dava allo Stato 800-900 milioni, quella privata da 1 miliardo e 4 trattasse, diciamo royalties. Non so bene se questi numeri immagino siano veri, ma il punto fondamentale è che un controllore ci deve essere e questo non c'è stato fino ad ora sulle concessioni in maniera rigorosa. L'altra cosa di giornata è il corso assegnato al professore Roberto Napolitano. Napolitano, 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 quello che mi ha querelato, me lo ricordate, mi querelava, perché io dicevo che il sole 24 ore, i vecchi amanti della zuppa se lo ricordano, noi dicevo il sole 24 ore, ma come fa a vendere tutte queste copie? Se le erano inventate le copie, tutte le società inglesi, cose stampavano, digitale, contate quattro volte, insomma il sole di Napolitano, 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 che mi aveva querelato, in realtà era un sole che faceva acqua da tutte le parti e ha perso 250 milioni. Cosa viene affidato da Emma Marcegaglia, dalla LUIS, l'università della Confindustria che forma la classe dirigente del futuro? Cosa gli hanno dato? Gli hanno dato un insegnamento di giornalismo alla LUIS. Yes, number one. È anche vero che quando sai fare qualche cosa in genere non la insegni e la fai, quando non la sai fare la insegni, che è una vecchia teoria riguardo ai professori, un po' se volete antipatica, ma io la trovo una cosa stupenda, non perché lui non possa fare qualcosa nella vita, non è stato condannato, garantismo, tutto quello che volete, a parte l'antipatia nei miei confronti che ogni volta che mi vedeva, insomma, mi spiegava che io non avrei mai fatto il direttore del sole 24 ore, cosa a cui non ambisco e non me ne fotteva nulla. Ma la cosa fantastica è che, voglio dire, è talmente ridicolo, la Confindustria romana è fatta da queste quattro persone che si proteggono a vicenda, come se le aziende italiane debbano pagare per una Confindustria che poi, non so, è una roba romana, è chiaro, è una roba romana, io mi immagino l'imprenditore di Bergamo che paga i suoi contributi, che paga la lui se questa roba vuole. Facci se la prende con Bonafede Ministro della Giustizia, se vi diverte leggetelo, tria su tutti i giornali, smentisce l'intervista fatta ieri da Di Maio che dice si può anche sfondare il 3%, dice si può discutere del 3% se è giusto o sbagliato, ma non si sfonde, si sfonda. Cosa ti perdi gli insegnanti? I professori sessantottini dappure hanno un bravo guaglione, ma hanno un po' costruzze, questo dice Franco Nenis, dappure hanno un bravo guaglione ma un po' costruzze, sono d'accordo con te, è un bravo guaglione, sono d'accordo, la Marcegaglia è quello che ha delocalizzato in Cina, no magari la Marcegaglia ha soltanto fatto la sua carriera Confindustriale, ha fatto la vittima con me, io sono stato archiviato in un processo e poi che cosa ha fatto? Il presidente dell'ENI e quello è il massimo società pubblica che dovrà essere utilizzata insieme a Fincantieri, insieme a CDP per rifare questa grande Italia statalizzata. Ciao!